In questi primi 23 giorni di agosto sono 10 le persone che hanno perso la vita sulle strade della marca, 9 in appena due settimane. Numeri che mostrano in tutta la sua gravità quella che il procuratore di Treviso, Marco Martani, descrive come una piaga sociale. Siamo davanti ad una questione culturale, direi quasi un problema antropologico. È evidente che manca la cultura della sicurezza, c'è tanta distrazione, ma soprattutto, aggiunge il capo della procura, troppe persone si mettono al volante dopo aver assunto alcolici, i cui effetti sui guidatori sono devastanti. Disattenzione, alta velocità guida in stato di ebrezza sono tanti e diversi fattori causa di incidenti, a volte dalle conseguenze drammatiche. Prevenire le stragi deve essere l'obiettivo da perseguire anche attraverso quelle campagne sulla sicurezza stradale che avevano abbattuto il numero delle vittime, come mostra questo grafico. Curva che è tornata a risalire dopo il 2010, quando le iniziative, come conseguenza della riforma del Rio delle Province, erano state sospese. Dallo scorso anno nella marca sono ripresi gli incontri nelle scuole superiori con i ragazzi di quarta e quinta, ma dal prossimo anno scolastico si intende tornare i progetti che coinvolgano tutti gli studenti. Con gli altri enti, US e poi con tutte le polizie urbane, con la polizia di Stato, con carabinieri, è potenziato nel senso che dovremo andare a toccare tutte le scuole. Aiutare i ragazzi a vedere oltre, a prevenire le situazioni di pericolo alla base delle lezioni. Noi l'incidente glielo facciamo vedere, tipo questi che abbiamo visto prima, lo prima facciamo vedere in tempo naturale, poi lo sezioniamo, lo tagliamo. Ma il progetto punta ad un ulteriore passo. E dovremo anche ricominciare quello che avevamo fatto negli anni, che era servito tantissimo, quelle prove pratiche. Educazione stradale che vuole raggiungere anche i più anziani con progetti ad hoc. Dei video appositi, soprattutto sulle condizioni, quelle difficili, dove gli anziani non hanno magari ben compreso alcune cose e magari le fanno un po' a rischio. Abbiamo preparato già dei materiali e io penso che dal prossimo anno cominceremo già con delle lezioni pratiche da fare a loro. L'Unione Europea ha fissato un obiettivo, zero morti sulle strade entro il 2050. Io sono convinto che ripartendo e avendo la forza di ripartire adeguatamente, dobbiamo riuscire a riportare i morti su quella linea gialla che ci ha indicato la Comunità Europea.